La frazione Pasquaro di Rivorlo Canavese ha festeggiato domenica 28 gennaio la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali e degli elevatori. La frazione, come tutte quelle rivarolesi, custodiscono la tradizione legata alla coltivazione della terra e all'allevamento del bestiame, un amore e una storia che viene ancora tramandata di padre in figlio e lo dimostra la grande partecipazione degli abitanti. I priori di quest'anno sono stati Ramon Arrovetto e Franco Gaiottino. Alle 10.30 è stata celebrata la Santa Messa ufficiata da padre Gregorio, alla quale è seguita la benedizione dei mezzi ed animali, che si sono ritrovati proprio per l'occasione con un dolce rinfresco aperto a tutti e l'incanto con prodotti vari offerti, il cui ricavato è stato devoluto alla chiesa della frazione. Presente anche il sindaco Alberto Rostagno, il vice sindaco Francesco Diemoz e gli assessori Helen Girmu e Costanza Contacanova.